Carlo, che vuoi fare? E tu? Cosa vuoi? Silenzio! Silenzio! Ci sono qua io! C'è qua lui! Don Pasqua, io sono venuto per il fatto di ieri sera. Qua tutto sorrendo ha saputo dell'affronto che mi avete fatto. E tutti quanti stanno aspettando per vedere che macello deve succedere. Don Pasqua, io una cosa devo fare. Io qualcuno devo ammazzare. Ma io cosa ci posso fare se Lisetta non ti vuole? Lisetta mi deve volere. Giovannotto, Lisetta non ti vuole sposare. Perché? Perché ha intenzione di sposare un altro. Io mi faccio il risottino. E io mi faccio la parmigiana. Giovannotto, se Lisetta vuole sposare un altro, si sposa un cadavere. Parola di Carluccio. E allora... Vattene. Vattene. Giognò, avete sentito? Ho sentito, sì. Giognò, avete sentito? Ho sentito. Don Pasqua, avete sentito? Sì, sì. Sì, abbiamo sentito. Hanno sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti. Allora ho sentito pure io. Hai sentito pure io? E va. Quella ripata, vattene. Giognò, avete sentito? Ho sentito. Giognò, avete sentito? Ho sentito. Ho sentito. Ho Pasqua, avete sentito? Hanno sentito tutti quanti. E beh, ma che devo dire? Io... Giovannotto, io ti combatisco perché tu non sei di sorrendo. E non puoi sapere che io sono Carluccio, uomo di ferro. Ah, sì? La vedi questa quantiera? La vedi? Tu sei un uomo di ferro. La vedi questa quantiera? La vedi questa quantiera? La vedi questa quantiera? E che vuoi fare adesso? Che voglio fare? Volpe. Così? E cosa è questo? È un calcio. Un calcio? Che ne avete visto? Avete visto? Faccio qua, hai visto? Francia hai visto? Congettina hai visto? Lui però l'ha sentito. È bravo. È bravo. Gli ha dato un calcio. Ma questo atteggiamento? Che vuoi fare adesso? Che voglio fare? Tià. Che? Che? Un uomo di ferro è caduta in una mola d'acciaio. Sentite, io vado dal dentista e lo faccio esamiare. E se disgraziatamente questo dente non è cariato, ma è buono, qua succede un terramoto. Ma fammi il piacere! Non è saluto. Ma ma che sei da qua? 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 Ma che sei da qua?